Allora se ti è vissuto Joseph con quella canzone, questo è un altro brano che canta lui, questa è una di Brian Adams, questa è una canzone d'amore, ok? Allora tenetevi calmi questa sera, poi dopo il concerto se il cuore batte troppo sapete cosa fare, no? Allora Joseph, stupiscici! Grazie! 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 Grazie tanto, grazie! Allora ragazzi, siamo venuti da Madagomani.